Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action, da e con gli studenti, per la città e il territorio. L'impegno diretto nei confronti proprio delle persone o degli enti a sviluppare una consapevolezza proprio nel tema dell'energia. Ovviamente andare a sviluppare questo tipo di consapevolezza risulta essere estremamente importante nel contesto nel quale appunto stiamo vivendo al fine proprio di andare a far conoscere alle singole persone o anche alle amministrazioni e alle politiche quanto sia importante affrontare e in che modo appunto possono essere affrontate questi temi che sono sicuramente così centrali. La conoscenza nei confronti proprio di queste tematiche è centrale che deve essere sicuramente però anche accompagnata e gestita da delle politiche da parte appunto delle amministrazioni locali ma anche delle amministrazioni nazionali o addirittura quelle sovraeuropee al fine proprio di dirigere al meglio queste tematiche.